Devo una parola su questo argomento Capito? Basta, io mi ricorderò sempre Se ti abbandonerai Non vuole Dio che non gli interessa a Dio Eeeh, poche parole E' chiaro Non vuole Dio, che non gli interessa a Dio A nostro favore Non chi sfrutta la divina misericordia per peccare Ma che sinceramente si prende il suo peccato Dio, che non gli interessa a Dio Non ci sa Vorrei arrivare al momento della morte è pronto Dico, se non si può dire questo momento qui avrei quasi paura Dico, madonna Come il ladro No, non ci vogliono andare No, non ci vogliono andare No, non ci vogliono andare Non ci vogliono andare la parità di Cristo ma bisogna mangiare la fine di fine dammi una parola dammi una parola e allora dammi una parola basta io mi ricorderò sempre come ti lanterò? però ma come ho fatto venire? che si deve avversare la scrittura e tu senti la tua madre dammi una parola ma si trova in una situazione ma chi sfrutta la divina misericordia per peccare ma chi sinceramente si è proprio il suo peccato e perciò mi piaceva aver paura questa dunque la catechesi che potrei andare avanti all'infinito abbiamo un anime mortale eeeh eeehm alla prossima Oh, 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 oh che risolto ah si tricco di qui andy ah 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 Grazie a tutti.